I tinere, ovvero viaggio, cammino, ma in questo caso anche luogo e spazio per un progetto rivolto a uomini che hanno difficoltà a controllare comportamenti o impulsi violenti di qualsiasi tipo, di natura psicologica, economica, fisica, nei confronti della donna, moglie o compagna o anche dei figli o altre persone. Operativamente si chiama CAM, ovvero Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti, cioè uomini che vogliono intraprendere un valido percorso di cambiamento assumendosi la responsabilità del loro comportamento sbagliato. Uno sportello CAM è stato inaugurato a Pescara, primo in Abruzzo. La sede si trova in Via Polacchi. Si tratta di un progetto pilota voluto dal Comune e finanziato dalla Regione. Assessore Adelchi Sulpizio, a Pescara esistevano già da anni centri antiviolenza per donne minori, ci sono case rifugio. Oggi avete inaugurato un altro centro, il cosiddetto CAM. È un cerchio che si chiude in fondo, no Assessore? Sì, era qualcosa che si voleva fare da tanto tempo. Abbiamo anche detto oggi in conferenza stampa che era già dal 2004, l'anno in cui è stato fondato la rete antiviolenza del Comune di Pescara che si pensava di chiudere un po' tutto quello che riguarda la protezione della donna vittima di violenza con questo centro di ascolto per i maltrattati. Sono passati un po' di anni, c'è anche aumentata la consapevolezza di un problema che a me è poi andato anche con gli anni ad aumentare e oggi abbiamo inaugurato questo centro. È un'iniziativa molto importante che ci lusinga come città di Pescara perché è la prima e unica in Abruzzo, fra le prime in Italia. Siamo convinti che potrà essere anche una risposta anche concreta, sempre con l'obiettivo di proteggere le donne vittime di violenza. Il centro di Pescara sarà a carattere regionale? Sì, ricordiamo che sono fondi prevalentemente regionali e sarà il primo in Abruzzo e soprattutto darà un supporto all'intera regione. Siamo contenti che il nostro braccio operativo di questo progetto sia il CAM di Ferrara, che abbiamo scelto perché è un CAM che già da diversi anni, da questo tipo di attività, ci darà anche un supporto formativo in quanto gli operatori sociali avranno una formazione perché è una tematica nuova e una tematica che va affrontata da persone esperte.